Qualità e sicurezza in anatomia patologica, l'anatomo patologo una specie in evoluzione. Questo è il tema di un convegno che si è tenuto nell'aula tesi di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. Il patologo generalmente è sempre uno specialista nell'ambito della medicina, ma è stato fino ad oggi, e quasi sempre, identificato come colui che fa le autopsie e quindi lavora sui morti. In realtà il ruolo del patologo è fondamentale. Siamo noi, il patologo stesso, che esaminando pezzi stologici, citologici, quindi dei frammentini del nostro corpo, che fa diagnosi. E in base a quello che noi scriviamo sul referto, che deve essere complesso e circostanziato, diamo suggerimenti al clinico di cosa fare. Dunque è una figura fondamentale per avere una diagnosi esatta? Assolutamente sì. È vero che il patologo, nella maggior parte dei casi, fa diagnosi di tumore, quindi il suo ruolo è fondamentale nel diagnosticare il tumore, se è benigno, se è maligno, ma soprattutto a capire di che natura è il tumore, di che caratteristiche ha, perché grazie a colorazioni speciali, alla biologia molecolare, siamo in grado quasi di creare un vestito addosso a quel tipo di tumore, un vestito terapeutico specifico. L'anatomo patologo è una figura in evoluzione, anche di questa avete parlato nel corso del convegno all'università. Sì, io faccio parte della SIAPEC, la Società Italiana dell'Anatomia Patologica, che sono la coordinatrice dell'Abruzzo, quindi mi sono cimentata nell'organizzare questo convegno, cercando di riunire tutti i patologi d'Italia. Infatti ci sono grossi nomi che vengono dalla Toscana, dal Lazio, dalla Campania. Questo perché? Perché adesso il nostro lavoro, che è poi tra l'altro uno degli obiettivi della società italiana, della SIAPEC, è quello di cercare di individuare attraverso tutti i processi del nostro lavoro quali possono essere i rischi, pesare questi rischi e nello stesso tempo trovare soluzioni, creando magari, scrivendo delle procedure tali che possono essere utili agli altri colleghi. Diciamo che queste procedure fungono da linee guida.